Ciao a tutti, folettine e folettine, ben tornati in questo nuovissimo video. Oggi è un video spacchettamento da un regalo che mi è stato inviato dalla mia lista Amazon. Praticamente questo ragazzo mi ha scritto tramite mail che voleva mandarmi questo regalo, mi ha specificato cosa che adesso vedrete per provarle e fare un video recensione. Quando le avrò provate e adesso vedrete di che si tratta. Allora intanto togliamo questa scatola enorme perché dentro c'è un'altra scatola. Aspettate che togliamo via questa. Ecco qui, sono le Yankee Candle, inviatemi da Davide e Salli. Goditi il regalo da Davide e Salli, spero che apprezzerai da Nassi. Grazie mille tesori. Io adoro le Yankee Candle, adoro tutte le candele perfumate, quindi... Mamma che profumo ragazzi! No, non potete capire. Non potete capire. Ok, calma. Apriamo. Finalmente ho le Yankee Candle, ma donna grazie ragazzi! Oh mio Dio, guardate! No, dovete... Mmm, io le amo, le amo, le amo. Oh, guardate! Queste sono le Yankee Candle. Allora, vi dico i vestiti che ci sono. Apriamo. Allora, Yankee Candle Baby Power. Tark oppure... Poo de Bebe. Mmm, che profumo! Scusate la mia pronuncia, la che eronica. Poi abbiamo questa qui. Guardate che bella! Turquoise Sky Yankee Candle Appassion for Fragrance. Guardate che bella! E poi abbiamo queste piccole... Aspettate... Sicilia Lemon. Mmm, aroma di limone! Ma io vuoi! Di aroma di limone ce ne sono due. Poi abbiamo... Alla Peonia. Sempre due. Strasberry Butter Cream! No, muoio! Aspettate, devo tirarla assolutamente fuori. Vieni fuori! No! Madonna, Strasberry Butter Cream! Sempre due. Poi abbiamo... Il cestino per le candele, per mettere la candela. Di questo bel rosato. Carinissimo, con scritto Yankee Candle. E poi abbiamo questo. Questo. Vedete? Per coprire, credo, la candela è questo. Che sinceramente... Ah, è una forbicia! Una specie di forbicia, ma non so a che serve. Boh, vedremo a che serve. Beh, che dire, questo è il pacco delle Yankee Candle. Grazie mille tesori per avermele mandate, le proverò sicuramente e vi farò un video recensione dove vi farò sapere cosa ne penso. Che dire, che dire, folettine e folettine? Se questo video vi è piaciuto mettete un gran mi piace, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video su tutti i vostri social, con tutti i vostri amici e amiche, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Folettina Creation. Mi ricordo che per chi volesse mandarmi una letterina, un pacchetto via posta, può farlo col fermo posta, scrivendo nel pacchettino fermo posta a Maria Grazia Catalano, via cammina libera, 19, 44, 39, tormezzo urine. Per chi volesse invece mandarmi una letterina via post, via mail, scusate, può farlo all'email marigrazia.catalano.it Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!